Marco Moruzzo della Sorridi con Pietro Onlus, questa Onlus che si dà molto da fare nel settore anche della divulgazione scientifica, medica per quello che riguarda i bambini. Un convegno sulle cure palliative con importanti esponenti del mondo della medicina, con l'appoggio dell'ASL, di Alisa, della società italiana per le cure palliative dei bambini. Insomma, un appuntamento di rilievo non è il primo fra l'altro, Moruzzo? No, questo è il secondo appuntamento, il secondo corso che organizziamo come associazione per la terapia palliativa in età pediatrica. L'abbiamo fatto due anni fa, il primo che è stato poi il primo in regione in Liguria e in Italia a Sanremo e abbiamo voluto ripeterlo qua ad Imperia a distanza di due anni per cercare di continuare a sensibilizzare sia la nostra popolazione territoriale ma anche e soprattutto gli operatori sanitari che con diverse professionalità appunto devono seguire i bambini a domicilio con le cure palliative. Per noi è stato molto importante aver avuto appunto il patrocinio degli enti e delle società che avete menzionate perché questo ci dà anche uno stimolo per continuare ancora di più per seguire il nostro obiettivo che è quello di creare una rete di assistenza sanitaria e sociosanitaria qua nel Ponente Liguria, nella nostra provincia di Imperia in collaborazione con il Gaslini e l'Asili Pedieste per seguire nel modo possibile i bambini a proprio domicilio. Luca Manfredini è un medico del Gaslini, quindi voglio dire l'ospedale per eccellenza dedicato ai bambini. È un ospedale importante, una realtà importante come è importante anche, ahimè, parlare di cure palliative, pediatriche. Qual è lo stato dell'arte nel nostro territorio? Devo dire che la regione Liguria è una delle regioni che più ha creduto in questo progetto. Siamo stati la prima regione che ha formato i pediatri, i pediatri di famiglia e ha formato i pediatri ospedalieri per quanto riguarda il controllo del dolore. Una regione che ha una rete di cure palliative dell'adulto ma che comincia ad avere una rete di cure palliative pediatriche e con l'ASL1 Imperiese noi stiamo collaborando già dal 2014. Abbiamo fatto un bellissimo corso anche grazie a Sorridi con Pietro, ASL1 e Gaslini nel 2014. Abbiamo iniziato questo progetto Diamo Qualità alla Vita e oggi ci rivediamo intanto per rifare un po' il punto sui primi quattro anni di lavoro insieme e poi per andare avanti. Abbiamo visto che la formazione è importante e oggi è una delle tante giornate di formazione che abbiamo organizzato. Anche se dobbiamo purtroppo dire che quando parliamo di cure palliative e di terapia del dolore vuol dire che insomma non ci sono molte altre speranze. Parlarne riferito ai bambini è qualcosa di struggente. Una realtà difficile con la quale confrontarsi. Una realtà difficile però è una realtà dove noi dobbiamo dare qualità alla vita. Abbiamo chiamato così il progetto. Sono bambini non moribondi, bambini che hanno patologie inguaribili e che magari vivono per settimane, mesi o anni e quindi noi dobbiamo riempire questo tempo che hanno. Per cui insieme ai colleghi della ASL1 e insieme a Sorridi con Pietro abbiamo dato proprio questo nome che per noi non è solo un nome di un progetto, è una realtà. Diamo qualità alla vita.